Ciao amici di Teletrof Games, eccolo qui, secondo appuntamento quotidiano della rubrica Per favore Konami annuncia PES 2022. Un modo per ingannare l'attesa, perché siamo tutti super interessati al lancio, a vedere, a sentire cosa proporrà PES 2022. Allora in attesa dell'annuncio ufficiale, di notizie ufficiali, comunque alcune sono già arrivate, tutti i giorni un po' cerchiamo di aizzarci, di aizzare l'interesse di riempire questo vuoto che c'è in merito ancora all'annuncio ufficiale non arrivato, che speriamo arrivi presto, io l'ho detto, spero che questa rubrica finisca quanto prima, perché davvero abbiamo una gran voglia di conoscere tutto su PES 2022. Comunque, ieri ho parlato di community, di questa community davvero fedele nei confronti di PES, io mi sarei immaginato un crollo, onestamente, dell'interesse nei confronti di PES 2021, perché si è rivelato quello che Konami con grande onestà intellettuale ha dichiarato essere un season update, invece questo crollo non c'è stato, c'è stato un interesse costante, continuo, anzi forse un po' in crescita, ho percepito, nonostante il gioco non sia arrivato per la nuova generazione di console. E appunto oggi l'argomento di PES 2022 sono le generazioni. Sappiamo bene che PES 2022 avrà un nuovo motore grafico e di questo parleremo in una prossima puntata, però non si sa bene, non è chiaro, almeno per il momento, anche se io ho le ipotesi che vi dirò dopo, come gestirà Konami questo cambio di motore grafico. I più preoccupati chi sono? Sono coloro che hanno PlayStation 4 ed Xbox One e temono un'indiscrezione, tutta da confermare, secondo cui il nuovo motore grafico uscirà solo sui PlayStation 5 e Xbox serie X e invece sui PlayStation 4 ed Xbox One uscirà solo un season update come quest'anno. Onestamente io ho detto la mia, io non credo che andrà così. PES 2022 è stato inserito in un filmato di la Real Engine, appunto il nuovo motore grafico, insieme ad altri giochi che sono usciti senza problemi su PlayStation 4, Xbox One, ma anche su PlayStation 5 ed Xbox serie X ed ovviamente anche su PC. Il PC è un altro tema molto molto sensibile perché ci ricordiamo che quando c'è stato il passaggio da PlayStation 3 a PlayStation 4, la versione PC per un anno o due, adesso non ricordo, comunque sicuramente per un anno, aveva sostanzialmente le features della versione PlayStation 3 e non di quella PlayStation 4. Cosa accadrà con PES 2022? Io ribadisco, ribadisco quella che è la mia ipotesi, non so, non ho notizie ufficiali ovviamente, se no non ci sarebbe questa rubrica quotidiana. L'ipotesi è che anche per il fatto che PlayStation 5 e Xbox serie X non si stanno trovando con facilità Konami questo switch, questo selector per cui a Real Engine per PlayStation 5 e Xbox serie X sì e per PlayStation 4 e Xbox One no, non credo che lo farà, anche perché ribadisco, con questo a Real Engine diciamo ribattezzato 4,5, non ci sono grossi problemi a realizzare giochi cross generazionali. Lo abbiamo visto con Spider-Man Miles Molares, l'abbiamo visto con altri giochi, appunto Ride 4, ma gli esempi sono tantissimi e non solo in campo, scusate, in campo a Real Engine, anche nel campo di Capcom con Resident Evil Village, un titolo che comunque è uscito già a maggio, è uscito senza problemi anche su PlayStation 4 e Xbox One. Questa è la mia ipotesi, l'ho già spiegato in un altro video, è un'ipotesi basata un po' su quello che sta succedendo con altri titoli multipiattaforma, certo è vero che PES 2022 è un pochino differente perché adotterà un nuovo motore grafico, ma io credo, io credo che il passaggio alla Real Engine 5 avverrà probabilmente l'anno prossimo, ma non per, non volontà di Konami, ma perché è quello che stanno facendo sostanzialmente tutti e quindi questa edizione sarà cross generazionale e forse, sottolineo, forse non c'è nessuna certezza, magari da PES 2023 davvero ci sarà questa divisione in cui su PlayStation 4 e Xbox One uscirà un season update con la Real Engine 4.5, mentre invece il nuovo motore grafico all'interno dell'universo comunque Real Engine uscirà solo su PlayStation 5 e Xbox Series X, perché la Real Engine 5 sappiamo bene che sarà appunto solo ed esclusivamente per console next generation. Però queste sono soltanto tutte mie ipotesi, è tutto da valutare, è tutto da scoprire appunto l'annuncio ufficiale di Konami di PES 2022 che speriamo arrivi presto, ma come dire, quello che volevo dirvi era anche una cosa, con la licenza, con la partnership del Napoli, si è sostanzialmente annunciato PES 2022, anche se Konami non l'ha scritto, ha scritto il prossimo capito della serie calcistica. E quindi come dire, PES 2022 esiste, su questo non vi è alcun dubbio, lo abbiamo già visto l'anno scorso, ovviamente anche con quell'annuncio, il season update, contempo quei pochi frammenti di gioco con il nuovo motore, con la Real Engine. Speriamo, speriamo che l'annuncio arrivi presto, altrimenti io vi faccio compagnia tutti i giorni con questa rubrica che si chiama appunto Per favore Konami annuncia PES 2022. Nell'attesa siamo al giorno 2, l'abbiamo completato, tutti i giorni trovate anche tutte le novità su PES 2021, sia prima che dopo, se arrivano dopo la rubrica, stamattina abbiamo visto che sono tornati gli aggiornamenti settimanali, torneranno, anzi più esattamente giovedì 13, lunedì 17 maggio ci arriveranno gli agenti Chelsea e Atletico Madrid, e invece giovedì 13 ci saranno sia l'agente della settimana per i campionati che per quello della Champions. Io invece domani, mercoledì 12 maggio, prenderò l'icona che state votando nel sondaggio in zona community del canale e poi boosterò un po' tutti i giocatori che, adesso ho finito il pool, finite i giri gratis di palloni d'oro e di pool, è arrivato il momento di boostare tutto, se vorrete, prima vi faccio vedere l'icona, così qualcuno non si lamenta ah mi hai fatto vedere 12-18 minuti, che poi molto poco, per vedere solo che prendi l'icona o prendi, no no ve lo giro subito, poi che vuole rimane e si vede tutto il boostaggio che farò. Io intanto vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio perché abbiamo già superato quota 7500 iscritti, che era la quota per iniziare questa rubrica, mi auguro che arriveremo a 10.000 per quando uscirà PES 2022, non quando sarà annunciato, che spero sia presto, ma per quando esce PES 2022 sarebbe bello arrivare ad essere insieme a 10.000, se tu che sei arrivato fino a qui e ancora non sei iscritto al canale, fallo, se tu l'hai già fatto, se conosci appassionati di videogiochi che ancora non l'hanno fatto, conosci, fai conoscergli il canale YouTube di Italia Top Games e così ci divertiamo in di più con commenti, con risposte, contro risposte, eccetera, eccetera. Molto spesso io non intervengo neppure perché la community tra i vari iscritti danno informazioni corrette e quindi non c'è bisogno del mio intervento e di questo anzi vi ringrazio tutti coloro che fanno appunto opera di informazioni a chi ne ha bisogno. Questo è il bello della community e crescere come community significa pure appunto avere più persone disposte ad aiutarsi, quindi è molto bello tutto questo. Io vi ringrazio dell'attenzione, il giorno e due l'abbiamo concluso, al prossimo filmato che arriverà fra qualche ora. Ciao!